e l'hanno sconsigliato grazie non ne ho anche bagnato i croppelli come è andata Victor? l'anno prossimo è mezzanotte grazie 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 a tutti è stato bellissimo che quest'anno l'acqua era meravigliosa e quindi ringrazio a tutti coloro che hanno voluto essere con noi perché è un momento incredibile per riuscire a iniziare l'anno un 23 che sarà sicuramente più bello del 22 che comunque è stato un grande l'anno